Mi ricordo bene perché anche a me mi hanno sparato parecchio. Io da là mi sparavano, io stavo qua dietro. Sparavano in continuazione, infatti frirono un zio pure. Mi diede bene insomma. Poi dopo pranzo venne il battaglione dei Repubblichini. Tutti in realtà, c'è per torno carcerato in una quarantina delle persone. Non tutti salirono in montagna a fare la guerra partigiale. Arrivarono anche altri, ma non tutti salirono in montagna come fecero Gaetano di Blasi e Orazio Costorella. Hanno sacrificato la loro vita per la libertà delle nostre zone. Grazie a tutti.